di questo evento con noi Emilio Carelli, buongiorno Emilio, ci senti? Buongiorno Lucia, buongiorno, senti e te ci diamo del tu perché ci conosciamo un sacco di anni insomma, le regole con giornalisti che quando diventerai ministro ti daremo del lei, allora Emilio Carelli che tutti voi ricorderete come grande volto di SkyTG24, è stato direttore poi è stato anche, viene da Mediaset, ha lavorato al TG5 e oggi è in una manipola, una pattuglia di giornalisti che si presenta, diciamo siamo tutti molto contenti, vi facciamo tutti gli auguri, si presenta al Movimento 5 Stelle insomma, passa dall'altro lato diciamo della barriera. Intanto Enrico, ci racconti le ragioni di questa tua scelta? Guarda, è stata una scelta che è avvenuta in modo molto spontaneo e molto naturale e dopo che per un anno avevo avuto l'occasione professionale perché per Sky Italia curavo i rapporti istituzionali di entrare in contatto con alcuni delle persone del Movimento 5 Stelle, in particolare con Davide Casaleggio, Luigi Di Maio, Roberto Fico e è iniziata così una frequentazione per ragioni di lavoro che mi ha portato a conoscerli e ad approfondire quelli che erano poi i valori che già negli anni precedenti avevo avuto modo di conoscere, di affrontare del Movimento 5 Stelle. Valori importanti che tutti voi conoscete, che sono i valori di un cambiamento radicale della politica, di una onestà di fondo, di un'abolizione dei privilegi, di un ridare anche alle famiglie, a tutte le famiglie italiane la possibilità di uscire, quelle che lo sono, sotto la soglia di povertà. Insomma valori importanti, ma soprattutto quello di scardinare quelli che erano i vizi e i problemi dei vecchi partiti politici. Allora ho avuto modo di frequentarli per un anno, ne ho avuto un'ottima impressione, si è creato un rapporto umano con loro, vero, e poi è nato quasi spontaneamente ai primi di gennaio, ho raccolto l'invito che Luigi Di Maio ha fatto per inglobare, per inserire nel Movimento 5 Stelle nuove forze per allargarlo, per portare delle competenze e delle esperienze dalla società. E quindi ho accettato questo invito, è stata un'accettazione naturale. Emilio, senti, uno dei punti forti di sfondamento negli anni passati del Movimento 5 Stelle è stato anche il famoso maledetti giornalisti, no? Cioè voglio dire all'inizio, diciamo, ha costruito il suo consenso su un odio che in fondo nei confronti della nostra casta c'è, e che era probabilmente, parlo di casta perché alla fine lo siamo, insomma, come tutte le zone della società molto difese, che era stata, diciamo, la parola d'ordine di Grillo. Ora, il fatto che siano entrati i giornalisti vuol dire che Grillo non pesa più nel Movimento, che Grillo ha cambiato opinione, o che è stata fatta un'eccezione solo per alcuni giornalisti buoni, insomma, no? Cioè qual è la vera spiegazione? Perché questo poi avrà in futuro un effetto anche sui rapporti istituzionali con i media del Movimento 5 Stelle. Io penso innanzitutto, dall'esperienza di questi mesi, Grillo conta come prima, è sempre, diciamo così, il garante politico del Movimento, quello che ha avuto l'idea che è stato il fondatore. Le cose di cui tu parli probabilmente nascono da un rapporto difficile, soprattutto agli inizi, perché forse i giornalisti, soprattutto all'inizio, non hanno dato dignità politica alla figura di Grillo e alla figura del Movimento. Quindi a volte l'hanno denigrato, l'hanno considerato un comico e non hanno dato seguito a questo aspetto. Io devo dire che personalmente non ho mai avuto questo problema. Io ricordo che già dal 2007, come direttore di Schattici 24, feci fare a Grillo un'intervista ad Andrea Bonini, un'intervista come uomo che aveva una proposta politica da portare avanti. E ho seguito sempre con pari dignità il Movimento 5 Stelle, la stessa dignità che poi davo a tutti gli altri partiti politici. Quindi per me il problema non è mai esistito. Io quello che vorrei dire adesso è una cosa. Il Movimento 5 Stelle sta crescendo, si sta proponendo come forza di governo. Vedo che anche l'atteggiamento dei giornalisti è cambiato e quindi vorrei esprimere un auspicio. Un auspicio che d'ora in poi ci sia un rapporto normale, un rapporto deontologico corretto da parte dei giornalisti del Movimento e anche il Movimento riconosca poi che c'è un nuovo corso, un riconoscimento diretto appunto di dignità politica pari alle altre forze politiche. Guarda, anche tutti noi ce lo auguriamo anche perché il Movimento 5 Stelle ha il 25% e passa, cioè non fosse altro che comunque destinato, non so se a vincere o meno, ma ad essere una delle grandi forze politiche del Paese. Quindi io credo che non si debba sottovalutare la prima forza politica. Certo, non si deve sottovalutare soprattutto dal punto di vista di questo voto, il valore di questo voto dei cittadini. Bisogna dire però che anche i 5 Stelle sono stati negli anni scorsi diciamo molto mediafobici, cioè sospettosi, pieni di senso del complotto eccetera eccetera. Ora in questo clima di maturità che tu descrivi, descritto peraltro anche da altri media, questo è passato? Ci sarà da parte del Movimento 5 Stelle più fiducia nei confronti dei media? Beh io questo lo auspico sicuramente, ripeto, il mio auspicio è che il rapporto torni a essere un rapporto normale, di normale dialettica. I giornalisti fanno il loro lavoro, i politici fanno il loro lavoro, quindi sicuramente quello che sto vivendo in questi giorni qui a Pescara è veramente un clima di grande competenza. Cioè ho veramente scoperto e ho avuto la conferma di quelli che erano stati i contatti dei mesi scorsi di essere tra compagni di viaggio che ognuno per sé porta delle competenze. E ho partecipato a dei seminari, dei workshop sul programma, approfondimenti sui vari problemi dell'Italia, dall'immigrazione al vaccino ai problemi economici, ai problemi dell'impresa, ai problemi della lotta alla povertà. Ecco ho trovato molta concretezza e soprattutto molta competenza. Ho trovato esperti, ho trovato parlamentari italiani e europei che hanno dato il loro contributo e che stanno portando avanti un'azione molto molto importante e anche soprattutto molto concreta. Senti, all'inizio non so se hai sentito il nostro collegamento della nostra inviata Cecilia Carpio. Ha parlato appunto di frattocchie laddove diciamo molti della stampa hanno detto che è un po' come la Leopolda. Sei d'accordo su questa differenza e in che modo mi interesserebbe sapere, al di là delle frattocchie, pensi che questo seminario non sia come la Leopolda? Come giornalista credo che una descrizione in testa ce l'hai, no? Sì, allora per correttezza devo dire che io non sono mai stato personalmente la Leopolda però l'ho seguita naturalmente dal punto di vista dei media e di tutto quanto è stato raccontato anche sui giornali in televisione. Mi sembra che qui ci sia più concretezza, ci sia più concretezza nell'affrontare i problemi e ci sia soprattutto molta onestà intellettuale, molto entusiasmo, molta voglia di fare, molta voglia di cambiare il paese, molta voglia di realizzare un programma che invece abbiamo visto negli ultimi vent'anni i partiti tradizionali che hanno fatto tante promesse non le hanno mai poi realizzate. Ecco, ho visto questo senso di concretezza come differenza. Ecco, tu insisti sulla questione della competenza che è esattamente la cosa su cui negativamente insistono i media e la classe politica. Si dice che i Cinque Stelle sono incompetenti e devo dire da parte di chi accusa ci sono due grandi argomenti, il problema di Roma e il problema di Torino che non sono stati risolti almeno finora da una gestione affidata ai Cinque Stelle. E davvero come ti spieghi questo fatto che da fuori si vedono incompetenti i Cinque Stelle e da dentro invece tu me li descrivi come competenti. Qual è il gap di comunicazione tra il fuori e il dentro? Innanzitutto volevo ricordare che alla sua Costituzione il gruppo Movimento Cinque Stelle era rappresentato da oltre l'80% di laureati, cifra analoga a quella del gruppo parlamentare di Forza Italia. Quindi anche questo fatto che il gruppo era formato da disoccupati, nulla facenti eccetera è una notizia sbagliata. Per quanto riguarda Roma e Torino non dimentichiamoci che l'eredità che hanno ricevuto, ma soprattutto a Roma del Gineraggi è un'eredità difficile, è un'eredità che derivava da anni e anni di problemi non risolti e abbiamo poi visto tutte le inchieste, mafia, capitale eccetera, cosa hanno portato alla luce di malcostume, di corruzione, di malfunzionamento della macchina pubblica. Quindi io penso che noi dobbiamo dare anche un attimino il tempo a queste nuove sindache di portare avanti il loro programma. Ricordo che innanzitutto a Roma per esempio, Roma in questo momento ha un piano smaltimento rifiuti, una cosa che non aveva mai avuto prima, che è stata avviata la costruzione di tre postazioni per lo smaltimento dei rifiuti, cosa che non era mai stata fatta prima e la si dava invece in appalto ad altri. Quindi probabilmente bisogna avere un po' di pazienza, io vivo a Roma, non posso dire che la situazione è peggiorata, vedo i primi segni di miglioramento, l'acquisto di nuovi autobus e 200 autobus per il trasporto pubblico, vedo dei segnali in movimento. È naturale che tutto questo richiederà del tempo. Senti, tu hai dei bambini, hai una coppia di magnifici gemelli, lo dico perché li ho visti nascere. Li hai... Antiglia e Giulia, ci tengo a... Esatto, esatto. Li hai vaccinati? Sì, io li ho sempre vaccinati, anche quando la vaccinazione non era obbligatoria e ho fatto fare tutti i vaccini che erano suggeriti dal medico, dal loro pediatra. E la posizione che hanno... Cosa vuol dire questo rispetto alla posizione dei 5 Stelle sui vaccini? Che ricordiamo, loro dicono 10 obbligatori no, 4 sì. Trovi ragionevole questo? Sì. Allora, io la trovo molto ragionevole, ho dei bambini e naturalmente sono molto sensibile a questo tema delle vaccinazioni. Io ho seguito queste raccomandazioni. Allora, riassumiamo qual è la posizione del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle propone di passare dall'obbligo alla raccomandazione. Resta l'obbligo per 4 vaccini molto importanti e quello resta. Per quanto riguarda gli altri vaccini dovrebbe prevalere la raccomandazione. Cosa vuol dire? È una, diciamo così, una posizione tenuta anche da paesi importanti in Europa come la Germania, l'Austria, la Gran Bretagna, che ha salvaguardato la popolazione da eventuali epidemie. Perché insieme alla raccomandazione ci deve essere anche una informazione capillare presso i genitori, cosa che purtroppo da noi non è stata fatta in modo adeguato. E poi c'è anche, comunque, nella proposta 5 Stelle la possibilità di reintrodurre l'obbligo per quelle vaccinazioni nel caso in cui, diciamo così, la soglia del 95% dovesse scendere molto al di sotto appunto di questa cifra e ci fosse un rischio di epidemia. Quindi in questo caso è previsto di reintrodurre l'obbligo per quella vaccinazione. Diciamo che una proposta di questo genere la considero molto ragionevole e soprattutto è una soluzione provata in Europa che non introduce l'obbligo c'è sempre un aspetto un po' odioso. Senti, oggi sul Corriere della Sera Di Maio parla di 20 punti per le convergenze, 20 punti su cui dopo, quando saranno magari depositari la possibilità di fare indicati, diciamo, dal Presidente della Repubblica per poter tentare di mettere insieme un governo, loro pensano di trovare un accordo. Di questi 20 punti, o generale del programma dei 5 Stelle, qual è la singola cosa più importante per te su cui tu farai, hai già detto l'onestà, ma insomma io sto parlando di un punto dei 20 della campagna elettorale, qual è la proposta più importante? Ma a mio parere, forse una non c'è, ma io metterei in primo piano quella di aiutare le famiglie sotto la soglia di povertà, la proposta dei giorni scorsi di dare anche 1600 Euro per un periodo limitato nel cui la famiglia è in difficoltà, ha una coppia di coniugi che hanno due figli a carico e questo mi sembra un punto molto qualificante, come è molto qualificante anche la creazione di una banca pubblica di investimenti per le imprese e per le famiglie e questo dovrebbe servire in un certo modo a rilanciare anche l'economia. Ecco questi sono i primi due punti che mi vengono in mente sicuramente specificamente il Movimento 5 Stelle specificamente non fa mai menzione di una patrimoniale insomma, no? Che invece è spessissimo citata o perlomeno un'idea che circola in altre organizzazioni di sinistra. Tu sulla patrimoniale, venendo da, se posso dire senza che ti offendi, da un'esperienza di grande mercato come quella di Mediaset, la patrimoniale come la vedi? Perché c'è il rischio che con questo programma dei 5 Stelle si possa presentare questa possibilità? No, per quanto ne so io questo rischio non c'è, non c'è nessun rischio di patrimoniale. Nessun rischio di patrimoniale, va bene, lo prendiamo in parola. Senti, c'è stata una polemica finora, no? È morta, è quasi ancora viva diciamo, sul rapporto tra Grillo e Di Maio. È nata anche diciamo dalla questione delle alleanze ed è nata anche soprattutto dalla divisione dei simboli e dei ruoli. Ci puoi spiegare a noi da giornalista con un linguaggio che esce, diciamo, dal linguaggio politicista interno di un'organizzazione. Che cosa faranno Di Maio e Grillo nei prossimi mesi? Beh, io non è che ho una sfera di cristallo per sapere cosa faranno. Posso dire quello che ho visto? Ma il ruolo è già sancito, diciamo, dagli incarichi del movimento. Grillo resta il garante e il fondatore del movimento, quindi io penso che sia giusto che lui continui a sostenere quei valori che hanno ispirato dall'inizio il movimento. Che sono anche valori di purezza, che sono anche valori di combattere una classe politica che negli anni scorsi ha dimostrato spesso, troppo spesso, di essere corrotta vicino a organizzazioni mafiose di indrangheta, di camorra, eccetera. Quindi è giusto che lui porti avanti e tenga alti questi valori. Di Maio è il candidato premier e il capo politico. Quindi a Di Maio il compito di portare avanti anche per lui tutti questi valori, ma poi di portare avanti nel concreto, in un'eventuale esperienza di governo alla quale il Movimento 5 Stelle punta perché pensa di essere arrivato alla maturazione tale da poter fare delle cose concrete per il Paese, da potersi impegnare per realizzare un programma che cambierà le cose in questo Paese. Quindi tu pensi che la questione delle alleanze non si porrà veramente come elemento di divisione all'interno del Movimento? Che basterà la formula che dice Di Maio arriviamo lì, proponiamo 20 punti e chiederemo il voto. Questo è stato sancito poi ieri da un comunicato congiunto, però al di là di questo io penso che la parola alleanze, convergenze, sono tutte parole anche astratte che alla gente a casa, ai telespettatori, ai cittadini che devono andare a votare interessano poco, alla gente interessano le cose concrete. Cos'è? Definiamo un attimino la parola alleanza. Alleanza è una cosa che si fa prima del voto, che prevede un doubt death, uno scambio di eventuali poltroni. Tutte queste cose sono cose che sento molto lontane da questo movimento, dal Movimento 5 Stelle. Parliamo invece di un voler fare delle cose concrete, di ritrovarsi su dei valori e su dei temi e su dei punti programmatici concreti. Quindi io trovo molto realistica e molto anche ragionevole e matura questa proposta di Luigi Di Maio di dire vediamo, vediamo quelli che sono i risultati elettorali, vediamo i numeri perché poi la maggioranza in Parlamento è fatta di numeri e quindi se mancheranno dei voti in Parlamento cerchiamo nei gruppi parlamentari quei gruppi che in qualche modo sono disponibili a condividere alcuni dei nostri punti di governo, di programma e con loro potremo eventualmente formare un nuovo governo. Questo è molto semplicemente quello che si pensa. Ma tu nel tuo cuore preferiresti più un'alleanza sinistra o più un'alleanza magari con settori che più parlano col tuo vecchio mondo che è quello di Mediaset? Ma io innanzitutto voglio mentire un mio vecchio mondo perché io sono molto, allora io voglio dire una cosa perché su questa cosa vedo che tutti i colleghi giornalisti cercheranno sempre un po' di sfumigliare, allora io sono molto, no io voglio dire una cosa, io sono molto orgoglioso di aver lavorato a Mediaset in 23 anni, la considero un'esperienza professionale per me importantissima e bellissima, sono cresciuto professionalmente, ho avuto la possibilità di fare un telegiornale con Enrico Mentana che mi ricordo è stato un telegiornale molto libero nel quale non abbiamo mai avuto ingerenze. Quindi fatta questa precisazione, io penso che un grande valore che ha portato il Movimento 5 Stelle che mi ha colpito, mi ha affascinato è stato anche quello di scardinare le vecchie categorie di destra, di centro, di sinistra, cioè tutto. Quindi in questo momento non trovo, diciamo così, neanche appropriato una domanda preferisco a destra, preferisco a sinistra. Ripeto, io preferisco vedere chi si unirà con noi per realizzare certi punti di programma che noi riteniamo importanti e condividerà con noi questi punti di programma e allora quello sarà il nostro compagno. Senti, quando preparavamo l'intervista, tu sai che queste interviste si fanno nelle redazioni e sai che caos è, uno mette una domanda, uno mette un'altra domanda, eccetera, improvvisamente abbiamo avuto un ricordo tutti un po' insieme e abbiamo detto, un momento, ma Carelli stava a Mediaset quando nel 94 scese in politica Berlusconi, cioè è la seconda volta che ti ritrovi in una situazione in cui c'è un movimento nascente perché Berlusconi si presentò in politica e sicuramente in politica si presentò, tra l'altro, un po' come i 5 Stelle, cioè metodologicamente con l'idea di schiavardare la politica. I 5 Stelle hanno detto che loro venivano con l'apertura ad aprire la scadoletta del tonno e Berlusconi scese in campo dicendo basta col teatrino, noi riporteremo la politica. Trovi qualcosa di comune tra quella discesa in campo, la discesa in campo dei 5 Stelle, c'è qualcosa dell'atmosfera, del primo berlusconismo? Non sto parlando dei programmi, sto parlando proprio dell'atmosfera, non è una cosa a trucco che ti sto chiedendo, proprio erano due momenti uguali per certi versi. Sì, ma per certi versi uguali, però io non trovo nessuna analogia perché io penso che sono stati proprio due momenti storici così diversi fra di loro, il 94, una nuova legge elettorale eccetera e questo momento, non usciamo da una crisi economica che non è stata gestita bene eccetera. Trovo veramente che siano due momenti storici diversi che impediscono di fare analogie. Poi diciamo così che Forza Italia si poneva come movimento di centrodestra che si opponeva a quello che veniva definito un rischio della sinistra, dei figli del PC, del comunismo eccetera. Il Movimento 5 Stelle non si oppone a una o un'altra forza politica in particolare, ma cerca veramente di rivoluzionare il sistema politico. Senti, a chi ha chiesto consiglio dei tuoi amici prima di scendere in campo? Enrico Mentana, Gianni Letta, qualcuno di Sky? A solo tua moglie? A tua moglie gliel'hai chiesto? A mia moglie l'ho chiesto, però basta, non ho chiesto consiglio a nessuno, è una cosa che ripeto come ho detto prima è nata spontaneamente e quindi ad un certo punto è proprio quasi maturata diciamo, ma nel giro di poche ore, è una cosa che fino a prima di Capodanno non sapevo, l'ho saputa dopo Capodanno, per cui è stata una scelta interiore, una scelta intima che però fortunatamente sento in questi giorni si riconferma giorno per giorno. Senti, oggi c'è l'apertura delle buste, cioè i risultati di chi è stato approvato, dei tanti che hanno fatto la propria domanda per essere presentati in lista. C'è molta tensione lì su questo? C'è molta voglia di entrare in Parlamento e in Senato, no? Certo. Beh, la voglia è inevitabile perché chi si è impegnato, diciamo che chi arriva qui arriva anche, ho sentito dalle esperienze parlando con i vari partecipanti a questi altri giorni, la voglia sicuramente è quella di partecipare, di dare un contributo e poi dicevo che chi arriva qui arriva magari da esperienze sul territorio già di diversi anni, di iscrizione al movimento, di partecipazione alle manifestazioni, a tutti gli eventi che ci sono stati, di condivisione di valori, quindi è anche inevitabile che ci sia una grande attesa per i risultati delle parlamentari di oggi. Ricordiamo che hanno partecipato oltre 10 mila persone e io penso che questo sia uno strumento di democrazia diretta e partecipata molto importante. Io ho veramente l'intuizione e la sensazione che anche gli altri partiti, anche il Medio Cinque Stelle non è un partito ma un movimento, nel futuro adotteranno un metodo di questo genere perché è un metodo molto democratico che di fatto poi consente ai cittadini elettori di designare quelli che sono i loro candidati alle elezioni, quindi la designazione non è fatta dal segretario di partito ma dalla gente. Di che cosa ti occuperai nel caso tu venissi eletto? Di che cosa intendi occuparti? Comunicazione, Rai? Con tutta franchezza non ne abbiamo mai parlato, sicuramente metterò a servizio e a disposizione del movimento quelle che sono le competenze che ho maturato in questi anni che per me riguardano soprattutto il discorso della comunicazione, il discorso anche delle tecnologie digitali che ho sempre seguito per mia passione personale e le ho anche applicate perché ricordiamo che Sky TG24 nel 2003 fu la prima televisione a nascere completamente digitale, quindi anche con tutte le possibilità, prima ancora il TGcom che avevo fatto, quindi io penso che queste esperienze possano anche portare sicuramente a un contributo anche di qualità a quella che sarà la nostra attività politica e questo voglio fare. Ho in mente anche un piccolo sogno che è dare una sorta di carta dei diritti del cittadino digitale e vediamo un po' come poi le occasioni che ci saranno, però chiaramente penso di lavorare in questo che è il mio ambito. Va bene, senti, ti auguro ogni successo come lo auguriamo a tutti, a te e al partito per cui corri, spero soprattutto, credo che tu ne abbia molto bisogno perché finora tu sai molto bene che i giornalisti che sono passati politica sono sempre tornati indietro scontenti invece di continuare, tu questa paura non ce l'hai? In questo momento non ce l'ho, francamente non ce l'ho, ho tutta la forza, l'energia e l'entusiasmo per impegnarmi al massimo in questa nuova avventura, spero. Va bene, grazie mille, grazie di essere stato con noi, se mi fate vedere Cecilia ancora che voglio salutarla, Cecilia ci sei? Ecco, ci sono, al volo solo una cosa volevo dirti Lucia, che così come l'attesa è alta per i nomi dei candidati, l'attesa anche per le polemiche ci sarà, tutti si aspettano che qualche escluso che è rimasto fuori, già sono sul piede di guerra, qualcuno ci è rimasto male, quindi se lo aspettano. Va bene, Emilio noi ti salutiamo, hai sentito? Grazie a voi. Grazie, grazie mille, grazie Cecilia e a presto allora, a domenica prossima doppia intervista sulla strada della campagna elettorale, grazie mille, arrivederci.